carissimi fratelli e carissime sorelle camperisti e noi vi parliamo dal nostro lettone del nostro bellissimo camper qua c'è scritto il mio nome il cuore e qui c'è scritto angela perché oggi è perché vi volevamo augurare una buona pasqua abbiamo il piccoletto qua l'uovo di pasqua non può essere ancora è troppo presto e lo so domani ma non poteva essere natale perché c'è sempre stato il panettone qui vabbè noi siamo nel nostro bel lettone come vedete e prima di andare al letto auguriamo una buona pasqua a tutti voi famiglia ok buona pasqua a tutte che sia una serena pasqua ecco di amore felicità e salute e pace e pace nel mondo un augurio di buona pasqua a tutti voi sorelle e fratelli camperisti e anche non camperisti da parte di angioletta e di toni dal nostro lettone del nostro bel camper quando si dice uno condivide tutto condivide anche il lettone ciao ciao buona pasqua a tutti ciao auguri viva la vita in camper viva il camper viva l'amore fra camperisti ciao a tutti ciao 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 ciao